ciao eccomi con un nuovo video oggi voglio parlarvi di prodotti da supermercato e a cavallo del trasloco ma in realtà anche un pochino prima ho avuto modo di fare un giro d'acqua e sapone ed ho visto una nuova linea di prodotti ecobiologici facilmente rivedibili perché appunto a questo sapore sappiamo che si trova un po' in tutte le nostre città dalle più piccole alle più grandi prezzo relativamente basso c'era comunque una promozione per la nuova uscita di questa linea e sto parlando della linea Windis allora chi conosce già questa marca sa che la Windis produce prevalentemente come si chiamano prodotti per la cura per la per la pulizia della casa quindi da diversivi ai spuzzini sgrassanti sgrassatori diversivo per catti e così via però da poco è uscita appunto questa linea che serve per la cura della persona quindi ci sono vari prodotti tra cui il bagno a schiuma che ho acquistato e il detergente intimo ci sono altri prodotti che proprio non ho acquistato perché non ne avevo bisogno quando sono andata da questo sapone mi servivano un detergente intimo e un bagno a schiuma quindi invece di provare altri prodotti invece di acquistare altri prodotti ho voluto provare questi perché erano in offerta allora come vedete dalla facilità con cui maneggio questo flacone è vuoto perché è finito da una parte sono contenta perché significa che io posso recensirlo al 100% perché mi sono fatta un'idea precisa di questo prodotto mentre l'altro nel detergente intimo si trova comunque a metà appunto ho avuto modo di utilizzarlo in questo ultimo mese avevo provato a girare questo video a casa vecchia e volevo continuarlo qui a casa nuova però non mi sembrava il caso fare due spezzoni di due case diverse due mie diverse era passato troppo tempo quindi ho deciso di registrarlo da capo spero che il rumore di sottofondo della stufa a pellet non vi dia fastidio ho cercato di abbassarla al minimo per non morire di freddo però allo stesso tempo per non arrivare di fastidio e vedremo poi nell'editing se questo suono risulterà fastidioso o mi organizzerò le prossime volte per ora siccome è un po' freddino ho lasciato anche il cardian su ho cercato di trovare un compromesso allora parto dal bagnoschiuma che è il prodotto che ho terminato prima che ho usato di più l'ho utilizzato sia io sia Luigi prevalentemente Luigi perché devo dire che a me non è piaciuto tantissimo la formulazione è abbastanza delicata vi leggo un po' la descrizione questo è un bagnoschiuma con materie prime di origine vegetale e bio è certificato da vegan ok questo simboletto qua e anche da Icea infatti qua c'è il logo Icea anche qua scusate ok allora per materie prime di origine vegetale e bio l'ho già detto 100% salute per la pelle senza allergeni ipoallergenico su pelle sensibili testato al nickel cobalto e cromo e alla profumazione alte verde una cosa che mi ha un po' stupito è che c'era soltanto questa profumazione di solito quando escono le nuove linee in generale quando si fanno questo tipo di prodotti ecco bio soprattutto quando sono nuovi ci sono almeno un paio di profumazioni casomai una un po' più maschile o fresca e l'altra un po' più calda tipo vaniglia o una floreale e l'altra un po' più verde diciamo non è stato questo il caso perché c'era soltanto questa profumazione al tè verde di solito io non amo al 100% il tè verde sia come bevanda l'ho utilizzata poco nella fine della mia vita c'è stato un periodo in cui l'ho amata un po' di più però in generale anche il profumo di tè verde non mi piace tantissimo l'unico profumo di tè verde che mi piace tanto 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 è quello di Alice Hachley no di Elisabeth Garda mi pare ve lo scrivo in soprensione è un profumo che ho di là l'ho preso un'estate che stavo in fissa con queste profumazioni verdi tipo verbena, tè verde queste cose un po' più fresche più erbace diciamo così diciamo che quella è l'unica profumazione in realtà che ho mai usato di tè verde che mi piace questo tipo di profumo è un profumo che lì per lì sembra molto molto fresco io poi non l'ho aperto perché se lo apri poi c'è una data di scadenza quindi non sono solita aprire e annusare almeno il 98% delle volte cerco di non farlo mi sono fidata così costava molto bello schiuma dai la profumazione non inciderà poco di tanto nel mio piacere di fare il bagno a una doccia veloce invece devo dire che non l'ho apprezzato tantissimo ora che a usarlo non mi sembra qualcosa di male però credo che sia una profumazione molto più adatta all'estate io la immagino, non lo so, al mare o da portare in vacanza una profumazione un po' più fresca e più adatta all'estate piuttosto che all'inverno io l'ho apprezzata, è uscita comunque nel periodo invernale come profumazione non riesco a promuovere al 100% tra l'altro ha un odore che sembra quasi chimico anche Alessandra, ciao Ale, me l'ha scritto in un commentino perché ho postato quando l'ho comprato un post, una foto su Instagram per chiedere un po' in giro se conoscevate questo nuovo prodotto se l'avete provato, se vi era piaciuto appunto Alessandra mi ha scritto che a lei sembrava un odore un po' chimico a lei o la sorella, mi ricordo, che non era piaciuto moltissimo e la stessa identica cosa l'ha detto Luigi, mio compagno e quando gliel'ho fatta usare, ha detto guarda un prodotto nuovo, se vuoi, me l'odore non fa impazzire è un po' troppo verde, vedi se piace a te ha detto, ma sembra un prodotto chimico che cosa è comprare, cioè è sembrato strano che io abbia acquistato un prodotto con un odore così chimico, secondo lui adesso che è finito, in realtà la profumazione che c'è all'interno non è poi così forte ed invadente però vi assicuro che quando l'ho acquistata insomma non è che mi era piaciuta tanto come formulazione però è abbastanza delicata nel senso che fa abbastanza schiuma qua c'è scritto che ci sono appunto estratti biologici di tè verde betulla, aloe vera con proteine vegetali non è aggressivo sulla pelle, è molto delicato infatti devo dire che come formulazione a me è piaciuta però ha proprio un odore che non mi ha fatto impazzire l'ho usato ma non con piacere al 100% però se vi piace questo tipo di profumazioni fresche, verdi o se amate il tè verde potete tranquillamente apprezzarlo, sono sicura questo detergente intimo invece devo dire che mi sta piacendo di più la profumazione è molto più delicata anche la formulazione non è male la confezione è molto molto pratica come vedete è maneggevole il paging è carino anche se devo dire che comunque come tipo di flacone, come tipo di pelle e anche soprattutto i disegni, la scritta mi fanno pensare un po' troppo ai reversivi infatti all'inizio ho pensato ma che ci fanno i reversivi qui tra il bagno schiuma e i prodotti per il corpo poi ho letto Winnis mi è sembrato un po' strano che questa marca che fa cose per la casa avesse deciso di fare anche i prodotti per la cura della persona però alla fine sempre sulla linea verde diciamo cerca di non inquinare di utilizzare ingredienti perlomeno vegetali quindi ci può stare però diciamo che come packaging pur essendo molto maneggevole e comodo tra l'altro non è molto molto rigida come confezione e non è neanche di quelle morbide che le premi e ti esce fuori il prodotto così quindi devo dire che è maneggevole e comodo da usare in doccia e stessa cosa per il detergente intimo devo dire che è molto comoda anche questa pompetta qui che serve per far uscire il prodotto e il prodotto all'interno non è qualcosa di aggressivo la profumazione è abbastanza delicata il pH di questo detergente intimo è 4.5 è senza allergeni e ha un antibatterico naturale sono 250 ml di prodotto invece questi sono 500 ml di prodotto non mi ricordo quanto l'ho pagato mi pare che fosse in offerta lancio perché era un prodotto nuovo intorno ai 3 euro e qualcosa ai costi 2 euro e qualcosa non ricordo di preciso quindi non posso aiutarvi perché è passato veramente tanto tempo il prezzo che si trova adesso da questo sapone in altri negozi non lo so però rimane comunque un prodotto accessibile per quanto riguarda il prezzo non mi sembrava qualcosa di alto quindi niente questa è la mia recensione riguardo i prodotti naturali per il corpo della Winis fatemi sapere se conoscete questa nuova tipologia di prodotto se l'avete provata, se vi piace fatemi sapere se l'avete sgracciato nei vari negozi se c'è un'altra formazione perché vorrei darvi un'altra possibilità perché ripeto come formulazione non era aggressiva sulla pelle è l'odore che proprio non mi piace però è una questione più che altro di gusti io vi saluto con questo video velocissimo spero che il buio non sia tale da non permettervi di vedere e di apprezzare questo video e vi mando un grasso bacio ciao a presto ciao a presto ciao a presto